Entra! Oh, che bello azzurro! Smettila di blaterare! Ella! Quasi dimenticavo! Rammenta, la magia avrà una sua durata. Quando sentirai l'eco dell'ultima campana, all'ultimo rintocco della mezzanotte, l'incantesimo terminerà. E tutto tornerà come era prima. A mezzanotte? A mezzanotte. È più che sufficiente. Allora, va. Grazie, grazie. Oka, va! Arrivederci! Crea il tuo look da favola e partecipa al concorso di Cenerentola su lookdafavola.it Potrai vincere l'anteprima esclusiva del film in una capitale europea e favolosi premi del Disney Store.